Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è un ASMR unboxing. Incredibilmente continuate a richiedermi questo genere di video, anche se non penso di essere, diciamo, la persona più qualificata per farli, ma eccolo qua. In sottofondo starete sentendo questo rumore di acqua che scorre. Non sto registrando questo video al bagno, quindi immagino già i miei muri nei commenti. Ah, che ridere? No, comunque no. Ho acceso la mia fontana zen che dà più o meno 5 secondi di gioia del vivere, ma poi mi passa subito. Se questo video arriva almeno ai 500 mi piace, vi posto la foto della mia fontana zen. Dopo questa fantastica introduzione direi che possiamo unboxare. Vi avviso che ci potrebbero essere alcuni rumori di fondo perché non sto registrando questo video di notte come faccio solitamente. Cominciamo. Lo structure che unboxiamo oggi è follia meccanizzata. Sono stato forse un pelino troppo duro con questo mazzo quando è uscito, perché alla fine della festa non era un prodotto così tanto brutto. Aveva avuto la sfortuna di uscire in un momento in cui purtroppo gli effetti della roba mech in generale erano praticamente rilevanti. Invece adesso queste carte sono molto più utili. Ho potuto testare il deck in un paio di salse diverse che probabilmente vi porterò qua sul canale e ci divertiremo assieme. Quindi apriamolo con la nostra forbice per gli unboxing. So di essere l'unica persona al mondo che apre di struttura con le forbici. Per tornare me a pormi via l'occa. Quindi apriamolo. Troviamo qua il nostro tappetino. Che se mi posso permettere è abbastanza ganso. E c'è anche questo tappetino in materiale non troppo ben definito che però fa un buon rumore. Il tappetino makes good sounds. Poi qua dentro troviamo semplicemente il mazzo quindi salviamolo dalla sua prigione. Eccolo qua il caro mech cittadella. Ci piace tantissimo. Con questa carta che fa un buon rumore di crincol molto interessante. Diamo un'occhiata alle carte. Abbiamo Mac Cittadella che è una carta davvero incredibile e un buon boss monster per questo mazzo Perché praticamente quando un mostro terra viene spaccato lo possiamo andare a reborn a decimi E ci dà la possibilità di fare il board wipe sul campo dell'oppo spaccando uno Che non è male Mac Possess Deposito è una specie di rebornino per alcuni dei Mac Mac Incursore Aereo che io chiamo simpaticamente il drone di Amazon Ci dà la possibilità di evocare specialmente lui da mano scartando uno E poi ha un effetto quick carino che dice spacca uno e evoca un altro Mac dal mazzo in pratica Abbiamo il ridispiegamento che è un buon cerchino perché possiamo scartare uno per raggiungere due Mac con nomi diversi Oppure possiamo scartare una carta Mac per raggiungere due carte Mac dal deck alla mano Riattivazione è la carta per abc Infatti confesso il mio peccato ragazzi e ho comprato questo structure in tre perte Più che altro per poter finire abc perché la magia a mio local costava quasi quanto lo structure intero Quindi ho detto vabbè prendiamo lo structure e non ci pensiamo più Poi abbiamo Mac e Radiatore Mac Fortez L'altro giorno ho ritrovato l'originale Mac Fortez del primo structure Mi sono quasi commosso Quasi Però sono andato molto vicino a commuovermi Mac Fusolier Mac Pacificatore Mac Force Mega Forma Non mi è mai piaciuta questa carta Mac Cannone Mac Soldato Mac Cecchino Mac Difensore Comandante Convington Jizukiru che è una buona ristampa Russell lo spazzanede frettoloso Genex Alleato Uomo Uccello Best Meme Riciclatore di frammenti Ingranaggio messa a punto di coppia Caccia vita destra Caccia vita sinistra Deskbot 001 per le combo simpatia Assieme al Deskbot 003 Abbiamo il perimetro di difesa Mac Mac unità corazzata Richiamo di ferro Pescata di ferro Questa è una buona carta In qualche mazzo Un po' memoso Macchina Tipo Piardia O Anche FA Fino a un certo punto Cosa del genere Non è troppo male Inversione magnetica Rimozione di limite Legame dei compagni Giara dell'Avarizia Cosmic Cyclone Fanno veramente sempre comodo questi Soprattutto ora Quadra di rifornimento Superguida Mac Questa carta è fantastica In qualunque versione Mac Sia in quella control Che molto probabilmente Vi porterò presto sul canale Sia in quella con le carte infinitra Che fa praticamente un'ora di combo E 57 a date È una gran carta Vi fa riciclare risorse bannate O le carte alcimi E mi piace davvero tanto Cyber fulminatore Ritorno al fronte Altra carta Sempre ottima Traduta in due perle Trucco trappola Altra ottima carta Vattene dal bronco Lo fa un po' ridere E col po' solenne Ci piace assolutamente Qua troveremo le cartine promozionali Che io solitamente uso come token E così abbiamo sbustato Il nostro struttore Direi che Apererò molto velocemente Off camera Anche gli altri due E poi Imbustiamo un po' Cosa dite? Quindi con il potere Dell'editing Salterò direttamente All'imbustamento Dal mazzo Quindi grazie al potere Dell'editing Ho sbustato E aperto Tutti i mazzi E molto velocemente Adesso direi Di imbustare Uno dei deck Tanto per Tra parentesi Tutti mi chiedono sempre Che boost utilizzo Ultimamente Sto utilizzando Solamente Blackfire Perché costano Poco Rispetto soprattutto Alle dragon shield E non si sporcano Assolutamente Soprattutto se Prendete Matte matte Che sono quelle Opache Diciamo Non è un video Sponsorizzato Purtroppo Mi piacerebbe che lo fosse Perché mi piacciono molto Queste booste Ma è anche un modo Di rispondere A una domanda Che mi arriva molto spesso Quindi cominciamo Quindi cominciamo Apriamo le nostre Sleeves Qua abbiamo le Trasparenti E Imbustiamo Un mazzo Come vi avevo già detto Anche in inizio video Sono stato Probabilmente Un po' Troppo cattivo Con questo deck All'epoca Adesso Se la cava abbastanza bene Non è neanche male Come mazzo Budget L'ho provato L'altra sera Con pochissime aggiunte Molto minimali C'è soltanto Una carta Che secondo me Vi serve Che costa veramente Dentro il deck Se lo volete far funzionare Ora come ora E se la cavicchia Poi ripeto Volendo ci sono Tante altre versioni Potete giocarlo Con i treni Potete giocarlo Puro control Potete giocarlo Con tutto L'armamentario E l'ambaradan Di carte Terra Infini track Disponibili Si presta veramente A fare tante cose diverse E sto aspettando Che mi arrivino Alcune delle carte Che mi mancano Per poter portare La lista Qua sul canale Quindi La vedrete Spero relativamente Presto Se Le poste Decideranno Di collaborare Che è un grandissimo Sì Non è ancora Deciso Ma probabilmente Il prossimo video Di unboxing Che vedrete Qua sul canale Sarà un video Fra virgolette Normale Non ASMR So che Tanti non apprezzano Questa tipologia Di video Ed è giusto così Ma quando posso E ho tempo Per registrarli Per portarli Non mi dispiace Farlo Ecco Rilassano abbastanza Anche me Questi video E ho tempo I cacciavitini E pensare che questi prima dell'avvento di Needle Fiber avevano ricevuto un hype incredibile Perché sembrava che praticamente ogni type del mondo iniziasse a giocare cacciavite destro e cacciavite sinistro E insomma abbiamo visto che così non è stato Fa abbastanza ridere quando hai effettivamente il senno di poi andare a rivedere hype che c'erano riguardo ad alcune carte che poi sono finite nel nulla cosmico Procediamo con il nostro GeneX alleato Uomo-Uccello Fantastico Uomo-Uccello E dove vai se non ce l'hai? Ovviamente imbustiamo Jizu-Giru Il Comandante con Bington Se qualcuno di voi ha visto un mio vecchio video, quello dove parlavo dei mazzi con cui giocavo o comunque sia con cui ho giocato nel corso degli anni Dovete sapere che MAC mi ha accompagnato per tantissimo tempo perché è stato uno di deck con cui ho ricominciato a giocare più o meno verso gli anni del Sirenide o giù di lì mi sembra E' stato davvero davvero utile il vecchio structure dei MAC per me perché mi ha permesso di tornare a giocare in maniera accettabile Era un buono structure quello dell'epoca Mi ha aiutato davvero tanto, mi ha aiutato davvero tanto quando dovevo ricominciare a giocare Quindi sono abbastanza affezionato a tutte le carte MAC Soprattutto a queste un po' vecchiotte Ecco Anche se non ricordo di essere mai riuscito ad evocare MAC forza neanche nelle partite for fun Perché questo tizio è veramente impossibile da canare ragazzi Veramente impossibile MAC pacificatore Fusoliera Fortezza Irradiatore Siamo arrivati alle Olo e giustamente le Olo le dobbiamo mettere qua a doppia busta Perché non siamo dei criminali di guerra Voila Io mi trovo molto meglio con queste bustine che si caricano lateralmente Perché qualche volta capita quando le metti da sopra di rischiare di piegare la carta O di smintare i bordi E con quelle che si caricano lateralmente almeno a me non capita Però magari sono io che sono uno scimpanzé E non so imbustare le carte È una possibilità E non so imbustare le carte E non so imbustare le carte Questa è una possibilità E non so imbustare le carte Possess Deposito e terminiamo in bellezza ovviamente con la carta che ci ha fatto iniziare il video e quindi con il caro Mac Cittadella. Abbiamo slivato tutto il mazzo, bello protetto come piace a noi, spero che abbiate apprezzato il video e spero soprattutto che la mia Fontana Zen sia riuscita a parare dai rumori un po' strani che provengono dall'esterno, l'obiettivo era quello, non so se ci siamo riusciti, lo scoprirò solo editando questo video. Come sempre, se vi va lasciate pure un commento qua sotto, mi fa sempre piacere leggere qualche feedback o qualche commento divertente o qualche richiesta per i futuri video e come ho detto anche a inizio video, se riusciamo ad arrivare a 500 like vi farò vedere la mia Fontanina Zen che ho qua in casa. Io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ragazzi!